chic life con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 9.4 su 10 è al momento il più votato con 1991 valutazioni per questa categoria le sue funzionalità sono robustezza comodo leggero ottimo rapporto qualità prezzo se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video la valutazione di questo prodotto di yogibato e di 9 voti su 10 risulta avere il miglior rapporto qualità prezzo è un articolo realizzato con ottimi materiali e con una qualità generale decisamente sopra la norma se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video il voto complessivo assegnato a questo articolo di toplas è di 9.2 su 10 questa è la nostra scelta migliore i punti di forza sono stabilità comodo morbidezza leggero elasticità facile da pulire in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato kinflex ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 9 su 10 risulta il più venduto sui portali online questo articolo ha tutte le caratteristiche di cui hai bisogno per svolgere appieno le sue funzioni trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video Grazie a tutti